E' proprio bello, come una debbussata, come un uomo, da facendo proprio una pavola, è proprio questo qua, c'è, tu sono dei chiedi, però uomo, tutti amore. Tiziana Schiavarelli e Vito Signorile sul palco del nuovo abeliano interpretano il re Lir di Shakespeare, la prima delle tragedie rivisitate in chiave barese in uno scritto di Vito Carofiglio. La femmina qualunque ha come protagonista femminile la Schiavarelli. Sono appunto questa donna semplice, una donna delle pulizie che lavora in teatro e che quindi, avendo visto tanti spettacoli, una notte sogna di essere lei sul palcoscenico e di interpretarli, interpretare vari ruoli. Roberto Corradino, Davide Cedia, Felice Alloggio, Nico Saletino, Enzo Vacca e Roberto Baratto alle tastiere danno vita a uno spettacolo profondamente legato a Bari. Non solo per la lingua, ma per i luoghi scelti da Carofiglio. La relazione è immediata, sia perché lui ambienta i grandi personaggi shakespeariani in luoghi precisi della città. Ha messo Amalè e Tendera alla Lanza, Giulietta e Romea a San Pite, Falza e la staffa a San Andogno. E' un po' che c'è il suo artito, mi ha detto, e gli ho fatto subito la mostra, facendo i cassieri stacchiangiti da l'ora.